I lavoratori dell'AMIU non vogliono transitare alle dipendenze di una ditta privata. Il bando per l'avvio della raccolta differenziata prevede la possibilità che tutti i lavoratori AMIU vadano nella ditta che si aggiudicherà il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, mantenendo così il posto di lavoro. Ma questa soluzione non va giù ai lavoratori che non vogliono diventare dipendenti del privato, avendo avuto fino ad oggi lo status di dipendenti pubblici come vincitori di concorso. Nei giorni scorsi nei locali dell'AMIU si è tenuta un'assemblea indetta dalla CGL e dalla CISL con i segretari provinciali Giovanni Lattuca e Carmelo Giannone. I lavoratori hanno scritto al sindaco e dai capigruppi consigliare spiegando che non sono disponibili a lavorare per una ditta privata e preannunciano scioperi ed azioni di lotte eclatanti. Intanto hanno proclamato lo stato di agitazione ed avviato la procedura di raffreddamento. I lavoratori accusano gli amministratori di incapacità politica che ora si tradurrà in una manovra di dismissione dell'AMIU che metterà a repentaglio il futuro occupazionale dei lavoratori. Secondo CISL e CGL invece il Comune dovrebbe continuare a puntare sulle municipalizzate trasformandole però da pozzo senza fondo con scelte gestionali discutibili in opportunità per lo sviluppo cittadino. Il sindacato fa richieste precise e se non arriveranno le risposte attese organizzerà nei prossimi giorni altre iniziative di mobilitazione e di lotta.